Ciao ragazzi, oggi saltiamo in sella su una bellissima rivisitazione di un kart degli anni 60 stiamo parlando della V7 Sport quella che vediamo in questo video è la V7 Stone di Casamoto Guzzi la moto che trovate qui da noi presso la Giudici Moto una moto eccezionale in condizioni pari al nuovo conservata da un unico proprietario e pensate che ha percorso solo 3600 km come dicevo prima le condizioni sono veramente eccezionali una moto non utilizzata un grande motore, una grande ciclistica per una grande tradizione tutta italiana se volete venire a scoprire qualche informazione in più su questa straordinaria moto ci trovate a Caronlo Pertosella in via Bainsizza 800 o in alternativa su nostro sito internet giudicimoto.it Giudici Moto, realizza il tuo sogno scopri la tua prossima moto nella vasta esposizione di usato selezionato e garantito come nuovo fatti consigliare e acquista in totale sicurezza vuoi vendere la tua moto usata? richiedi una valutazione ti aspettiamo a Caronlo Pertosella in via Bainsizza 800 e su giudicimoto.it